Noi italiani siamo unici in un certo senso, sicuramente, anche perché per duemila anni siamo stati la sede di Pietro e questa sede di Pietro è stata da quasi tutto il mondo riconosciuto il centro morale. Adesso non è più così, adesso c'è un'apostasia dilagante in Italia che ci permette di capire chi siamo. In ogni caso, tre anni fa è stata la volta del Covid e unici, unici al mondo, la televisione, tutti i giornali, tutti i giorni a dire quanti morti, quanti ricoverati, quanti guariti, le statistiche, quanti hanno fatto il virus. Tutta la vita degli italiani era dominata dal terrore del Covid. Esisteva solo il Covid, il nostro nemico, come se la morte non fosse una vicenda naturale con cui dobbiamo confrontarci. Lì c'era una possibilità di sfuggire alla morte. La morte si chiama Covid e il nostro nemico maggiore era il Covid. Ha portato conseguenze questa patologia? Per esempio, persone sposate da 20 anni, cioè quelli che hanno una cinquantina d'anni, 45-50 anni, per conoscenza, i matrimoni si sono sfasciati. Perché? Perché non hanno retto essere tenuti prigionieri in casa per mesi, non hanno retto e il loro equilibrio di coppie è saltato. Beh, equilibrio fragile direte voi, possibile pure, ma avrebbero retto senza quella follia a cui siamo stati costretti tutto il giorno a pensare e a vedere come facevamo a sfuggire alla morte, le maschere, non le maschere. Anche in chiesa, anche in chiesa, la follia ha raggiunto la chiesa per primo, devo dire. Bene, adesso l'aspetto del Covid è finito. Pagheremmo i vaccini che abbiamo ordinati in abbondanza, ovviamente, cioè qualcuno ci guadagna con questa terrorizzazione in cui siamo stati immersi. Oggi è finita la vicenda Covid, è finita perché è finita, quindi non ne possono più parlare, però abbiamo individuato un altro nemico numero uno. Un'altra ossessione, anche qua siamo abbastanza unici, tutti i giornali, tutte le televisioni ormai non c'è più possibilità di analizzare le ragioni di questo conflitto in Ucraina. No, perché le ragioni sono state analizzate tutte, manco per niente, ma perché abbiamo identificato un nemico numero uno. Di quello non si può parlare assolutamente se non per disprezzarlo. Questo nemico numero uno naturalmente si chiama Putin. Il nostro cervello non lo so che fino a fatti in ogni caso. Allora l'Italia che cosa ha fatto? Come la Nato, come innanzitutto in primo luogo gli Stati Uniti, ma comunque dietro gli Stati Uniti, la Nato, i paesi europei, si sono allineati alla lotta al nemico numero uno che si chiama Putin. Terrore dell'universo. Allora, noi sempre abbiamo contribuito con i vari governi, Conti, Draghi, Meloni, Meloni è molto convinta di questo, abbiamo contribuito ad aiutare il paese aggredito, l'Ucraina. E' successo che Meloni è andata a fare una visita di Stato a Chieve. Una visita di Stato. Lei, rappresentante di tutti noi, rappresentante dello Stato italiano che ha aiutato massicciamente e che continuerà massicciamente a aiutare l'Ucraina, è stata ricevuta dal presidente ucraino che si chiama Zelensky. Questo signore, in presenza del capo di Stato, ripeto, una visita di Stato, si è permesso di insultare, ma di insultare a livello proprio dozzinale, come se fosse un ubriacone, Berlusconi che fa parte della maggioranza che ha espresso Meloni e che ha permesso a Meloni di andare a Chieve. Quindi non è l'ultimo arrivato Berlusconi, è una persona che raccoglie milioni di voti in Italia, come l'ha sempre raccolti, anche se adesso è molto anziano. E che ha fatto Zelensky in presenza di Meloni? Ha fatto un attacco personale, non politico, personale a Berlusconi, dicendo Putin ti invia le bottiglie di vodka? Anche noi siamo in grado di inviarti qualche bottiglia di vodka. Ma stiamo scherzando? Ma abbiamo perso completamente il senso non solo delle istituzioni, della misura. Tu sei uno aiutato e ti permetti di sputare in faccia a quello che ti aiuta? Ma chi pensi di essere? Ah, ma noi abbiamo Putin, nemico numero uno!